musica musica ciao ragazzi abbiamo una vecchia nostra conoscenza vecchia nostra conoscenza come chi è? io non so un cazzo luke ma non si dice è tiuche ma chi è il suo coglione? eh coglio tiuche era quello che aveva fatto il video in mezzo al lago tutto preso male oddio non ricordo è una nostra vecchia conoscenza sono fatto così produzione rick freak sono fatto così speriamo che non parli delle canette sicuramente sono fatto così sono un alieno a marcetta bello è lui che faccio il cazzo che tiene? eeeeeee mi piace? si ahiao ma non è maccio eh come ho fatto adesso? lui è the rock di senza la palestra si con un attimo regime di vlog si conoscenza quadrato indietro il palazzo dei congressi ecco lo sapevo sono un alieno mi hanno preso gli ufo eh questo flow che hai fatto? mi raccomando benevolente questo è sicuro si quello si è quadrato un po' vuoto il beat è bello ma forse è la pressione delle cacce però perché c'è sotto questa chain scorreggiosa si è quello che magari non sentiamo in basso non capisco questo sporco sul video che sbrochi su di me che non pulisci no 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 è proprio l'abbiamo finito così Damian films una strofa sola ecco le maschere anti gas e gli alliechi adesso dice che ha scherzato aspetta? si no no non scherzava per un caccio ne abbiamo scherzato noi aaaaaaaaaaaah dobbiamo leggere il testo pure guarda la purtroppo secondo me no è l'aria fritta dell'artista però si però è quell'artista che non spicca non spicca provo a chiamarti spicca provo a chiamarti spicca esiste già un tipo abbiamo già anche fatto un'area si ma va spicca no spicca proprio sai quante ho avuto voglia di volare via ma non lo scrivi in normale giusto sai quante ho avuto voglia voglia di volare via sai quante volte ho avuto voglia credo non sei riuscito a dirlo non sei riuscito a scriverlo ma nonostante tutto io sono rimasto qui ma sei rimasto proprio qua potevi fare una linea vocale ma nonostante 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 meno male che non l'ha fatta se no partiva così chiudevo tutto rompevo tutto tipo leg boomba bash allora sei qua vabbè ritorno alla merda no vabbè è una merda è l'unica strofa vado in psicanalisi sono un alieno smetto perchè mando lo psicologo in paralisi oh mio dio vedo dei fantasmi che discutono sui tavoli sono un alieno suona lo xilofono all'inferno con i diavoli xilofono il trillo del diavolo questa è una citazione di Landog guarda questa mossa sono i diavoli è una merda e non neanche i tori a pamplona si mi presento sono tiuk noto come guastafeste sulla base taglia testa e porto la pelata a feste vabbè dai carino dai feste guastafeste punchline fantastico la rima è feste guastafeste appaio all'improvviso proprio quando scatti il selfie quindi un fotobombe pronto per la guerra ghibellini contro guelfi ghibellini contro guelfi io che sono stato preso dagli extraterrestri non avevo dubbi mi scrivono i testi la notte e parlo con gli elfi possiamo smettere di leggere gli extraterrestri e parla con gli elfi e si tanto i testi che scrivono gli ufo lui ha tempo per parlare con gli elfi certamente capito scappo via dal matrix bene nella metropoli sono tutti disperati xs noi che per questa catastrofe non siamo preparati x qua ha usato un flow di merda i pianeti ancora non si allineano non si sono non sai scrivere i testi non sai scriverci i testi i miei pezzi sono pazzi mi dicono che tu fai i miei pezzi sono pazzi sono tutti pazzi a pezzi pezzi di palazzi pezzi di palazzi nei testi di puzzle pazzi beh vai puzza di testi pazzi a pezzi fai confida fai confida usate la mano e ve ne andate a fanculo nel 2001 esatto se solo sapessero i mille cazzi che ho per la mente ma anche i mille pezzi del puzzle dei pezzi di puzzle dei testi dei testi ti vogliono obbediente timido benevolente per mettere la tua creatività in manette questa è l'unica frase bella delle ascolti i vostri dischi mi fanno tutti rate mi fanno tutti rate vi auguro di fare il botto nel senso che scoppiate mi fanno tutti rate rate fa schifo ah ok 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 e adesso dimmi come andrà a finire adesso dimmi come andrà a finire questa storia io ho baratto la mia vita per la gloria hai ragione hai ragione il votismo il votismo il votismo dell'artista che però tu mi dici eh la creatività in manette ma fammela vedere questa creatività le manette le manette le manette sono gli alieni rate rate frate ah poi ah poi poi abbiamo avuto anche la maschera anti gas gli alieni il cliché la maschera anti gas gli alieni gli elfi gli elfi lui è l'elfo di catania però lui è cavado 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 ciao tiuche tiuche tiupac si lo 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 Grazie a tutti